Ok. Oh! Ehi, dove è finita l'eclissi? Ciò che era sarà di nuovo. Davvero molto interessante. Cosa è successo? Siamo tornati nel presente. Dobbiamo insistere. Dobbiamo rimediare agli errori del passato. Che gioia! Ah, bene, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Bene, abbiamo sbagliato. Impegniamoci di più. Odio avere questa nausea. Siamo tornati nel futuro. Ah, presente. Dobbiamo riprovare o rinunciare a uccidere zombie. Se volete io ci sto. È andata male. Ritorno al presente. Ritorno al passato. Già, di nuovo nel presente. Ancora. Finalmente siamo fuori dall'armadio. Però è stata una pausa piacevole, no? Non per me. Che esperienza orribile. Takeo, sei davvero un pessimo ballerino. La mia seconda moglie danza meglio. Ed è morta. Peluche. Sento i miei cari angeli. Che massacro avevi iniziato? Non ho più nulla da vomitare. Bene, ero stanco di dover pulire. Quell'armadio mi ricordava casa. Però casa puzza un po' di più. Di fognatura. È il tuo alito, maiale. Ehi! Parole grosse per uno che si è sbattuto una scimmia di peluche. Zitti tutte e due. Stanno arrivando. All'assalto del frigo. Perché continuiamo a premere dei pulsanti se non sappiamo a che servono? Lo fai solo tu, Nicolai. Che diavolo è successo? Ah sì? Ehi, guardate. Un'eclissi. Affascinante! E laggiù c'è la meteora gigante in equilibrio sul tempio! Siamo tornati indietro alla stessa notte. Già mi era successo di dover rivivere sempre la stessa notte. Terza moglie, abitudinaria. Un tempio che viaggia nel tempo. Ma certo! Beh? Eh... Che si fa? Quello che facciamo sempre. Azioni contorte apparentemente casuali. finché non vinciamo, no? Speriamo. Porca puttana! Per la forza del... Porca Troia! Notevole! Scusate! Pensavo che la roccia gigante caduta dal cielo lo nascondesse. Usciamo di qui e andiamo a vedere. Chissà dove si bloccherà stavolta. Forse vicino alla radio trovata nel passato... Eh... Presente... Eh... Futuro. La loro morte è stata gloriosa! Perché dobbiamo aiutarli? Forse potranno darci una mano. Finora siamo solo noi che li aiutiamo. Speriamo che serva. Stupido Gersh. Che glissi gloriosa! Sì, come no? Che ci facciamo qui? Ho un'idea! Che ne dite di andare in giro a cercare l'uomo strano e il suo servitore? Mi sono stancato di aiutare quella gente. Cosa hanno fatto per noi? Dempsey, non fare l'idiota! Abbiamo sollevato i cristalli focali! Eh? I che? Niente. Andiamo a cercarli. Quale genio avrà eretto una struttura così magnifica? L'imperatore! Eh dai, Takeo, cerca di variare un po'. Mi chiedo cosa ci faccia un compattatore di rifiuti in un antico tempio. Come potrebbero smaltire la spazzatura altrimenti? Bene, si torna di nuovo nel passato. Ah, quanto mi diverto! Muoiono sempre in modi così creativi! Sadico! Oh, grazie Nicolai! Oggi non puzzi come al solito? Secondo me siete diventati tutti pazzi! Sbrighiamoci a trovarli! Ehi, come facevano a conoscere il codice? Sono confuso. Dempsey, non fare l'idiota! Abbiamo completato i clifi! Per questo, venendo qui nel futuro, sono riusciti a leggerli! Perché noi abbiamo cambiato il passato! Il passato presente in cui eravamo, per loro non si è mai verificato e... Aspetta, cosa? Mi è venuto il mal di testa! Scopriamo dove va usato il codice! Ehi, perché siamo di nuovo qui? Procediamo alla cieca? Non lo so. Forse ci siamo persi qualcosa? Forse, ma non è importante! Io perdo sempre tutto e guardatemi! Già, ti vediamo! Beh, muoviamoci! Tutti i cristalli sono sollevati. E ora? Dicelo tu, Rictofan, sembra che tu sappia quello che fai. Ja, è vero. Beh, allora cosa dobbiamo fare? Lo saprò presto, quando l'avremo fatto. Allora avrò tutto ciò che mi serve... Cioè, andiamo a vedere dove si sono bloccati quei tizi.